amici di chitarre continuiamo l'argomento su divisione ritmica già trattato su chitarra numero 333 con la tecnica delle percussioni su cassa armonica in questo nuovo appuntamento iniziamo la prima lezione dedicata alla chitarra ritmica applicando in ordine crescente tutti i concetti della tavola di valore grazie per la visione grazie per la visione grazie per la visione su chitarra e magazine di questo mese troverete la lezione completa di tutti gli argomenti trattati nel dettaglio con questa clip vi auguro un buon divertimento e rinnovo l'appuntamento alla prossima sempre da massimiliano con grazie per la visione